Ogni giorno che parla, la folla aumenta enormemente. Abbandonate tutti i cattivi sentimenti di ogni specie. Ma sapete che abbiamo una nuova parola per definirne tutti? Cristiani! Di che cosa sono accusati? Sono agitatori. Se fuggono ti tagliamo le mani. Ma ai loro tempi il mondo non li voleva. La nostra missione è appena cominciata. Pietro e Paolo. Seconda e ultima parte lunedì alle 21.10.